A Pesaro si sarebbe potuto fare a meno di chiudere le scuole superiori, lo dice Riccardo Rossini, dirigente scolastico del liceo scientifico Marconi, nonché presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Di fronte alle telecamere di Fano TV, racconta quali sono, secondo lui, le strategie da mettere in campo per avere una scuola più sicura. Probabilmente Pesaro avrebbe potuto fare a meno, perché abbiamo bassissimi numeri, quindi eravamo sicuramente in condizioni di contenere il rischio. Le strategie sono diverse, il 50% in ogni classe e non per istituto, ma se lo puoi fare, perché ci sono scuole che non hanno connessioni che tengono la moltitudine di dati che devono processare se tutte le classi contemporaneamente sono collegate. Il distanziamento sociale però è fondamentale, aumentare da un metro a due metri, due metri e mezzo, quindi creare una rarefazione studentesca all'interno delle aule è fondamentale. Noi, come dicevo scientifico, ad esempio, non abbiamo avuto dall'inizio dell'anno né un caso tra gli insegnanti, né tra i bidelli, né tra la persona leata. Tutt'oggi non abbiamo classi in quarantena e abbiamo solo tre casi di positività. Cioè, questa chiusura generalizzata mi sembra che sia oramai non più idonea a sostenere il problema. Le scuole che sono in difficoltà devono essere chiuse, quindi richiede una versatilità, una velocità di reazione che non è quella che abbiamo avuto in questi giorni. Perché Asur, i comuni, la regione si rimpallano alle competenze e alcune scuole rimangono aperte anche quando ci sono numerosi casi di contagiati. Se interveniamo immediatamente in caso di focolaio, noi possiamo continuare fino a giugno andando ad incidere solo lì dove è necessario e non in maniera generalizzata a tutte le marche. Benvengano i vaccini, sottolinea il Preside, che da oggi potranno essere prenotati anche dai docenti e dal personale scolastico, anche se qualcuno è rimasto ancora escluso. Qualche problema c'è però. Abbiamo iniziato a prenotarci, i dirigenti, tutto il personale scolastico e abbiamo visto che gli over 65, o meglio tutti coloro che hanno da 65 anni in su, non possono prenotarsi. E ce ne sono diversi. Questo è un problema perché comunque loro sono all'interno della scuola, sono dei docenti, sono dei bidelli e fra l'altro sono una categoria addirittura più a rischio, essendo più grandi di età. E un'altra problematica che riguarda i vaccini sono tutte quelle categorie di docenti a progetto che hanno appunto una docenza all'interno delle scuole, magari che dura due, tre, quattro mesi, ma comunque sono a contatto con gli studenti, sono a contatto con gli altri docenti e in questo momento non sono presenti nelle liste di quelli che devono essere vaccinati.